E' importante mantenere la cultura della memoria. Senza memoria una istituzione non ha futuro e noi crediamo che la cultura della memoria sia un bene da coltivare. Queste le parole del prefetto Franco Gabrielli, capo della Polizia di Stato, intervenuto questa mattina a Pescara, prima presso il reparto volo dell'aeroporto e poi al Parco Adriatico di Montesilvano, per ricordare, commemorare ed onorare i tre agenti della Polizia di Stato, Maurizio Formisano, Fabrizio Di Giambattista e Valerio Valentini, caduti in servizio nelle acque dell'Adriatico a largo di Fossa Cesia l'11 maggio del 2005. Ho sempre attribuito molta importanza alla cura della memoria perché credo che un'organizzazione, un'amministrazione possa avere un futuro solo se ha rispetto e cura della propria memoria. e nel caso di specie cura e memoria di tre nostri appartenenti che ormai 12 anni fa, nell'11 maggio del 2005, nell'ambito di un servizio di pattugliamento aereo, hanno perduto la vita. e quindi credo che sia doveroso, doveroso per i familiari, perché anche se per loro si rinnova una ferita, si apre una ferita di nuovo, ma anche l'indifferenza e la dimenticanza. Sono condizioni che invece sono peggiori del ricordo e quindi del ravvivare una memoria seppur negativa. Io credo che queste cose siano importanti e debbano essere coltivate, debbano essere assecondate e quindi mi fa piacere pur nella mestizia del ricordo di una tragedia essere qui, essere qui con i colleghi che hanno organizzato questa iniziativa perché almeno dal mio punto di vista è un atto semplicemente doveroso, doveroso per loro, per le loro famiglie e anche per noi stessi. Di nuovo in Abruzzo, a Montesilvano, lei è di casa nella nostra regione? Sì, è una regione nella quale ho passato, se così si può dire, alcuni mesi importanti della mia vita personale e professionale e quindi torno sempre volentieri, anche perché per fortuna ho molti amici, persone che bontà loro mi apprezzano, quindi se così si può dire torno sempre a casa e torno sempre molto volentieri.